la Blue Castle Stable, manca ancora uno, soltanto uno, col cap rosso, Avalonena per andare agli ordini dello start del partito. Sopran Pegaso, Avalonena, Power Sheik in prima linea sono questi, Arvie che si ritrae dall'esterno Sopran Pegaso che vola in vantaggio, ha fatto partenza anche Time Leon. Sopran Pegaso però tira via, buona cadenza, dall'esterno converge anche Avengers Endgame insieme a Power Sheik, in seconda posizione rimane Time Leon, Sopran Pegaso, Time Leon, Avengers Endgame. Questa è la prima linea, poi Avalonena in mezzo alla pista invece, virtuale terza quarta corsia, galoppa Power Sheik, mentre di dentro la giubba arancione, quella di Miramar Airbase. In The Vox ha preso la schiena di Power Sheik in coda, Arvie, Sopran Pegaso, Time Leon, Avengers Endgame, Miramar Airbase. Questi allungano da Power Sheik, In The Vox che deve scoprirsi in mezzo alla pista quando si entra addirittura. Sopran Pegaso ha roccato in corda in fuga da Time Leon in mezzo alla pista, Avengers, In The Vox, provano a recuperare Avengers in mezzo alla pista, con Time Leon, poi Power Sheik, ancora questi, Pueblo, Arvie, allargo di tutti, Sopran Pegaso, Time Leon, allargo di tutti, prova Arvie, prova Avengers, prova Pueblo, Chico a lottare, Time Leon, allargo di tutti, Avengers Endgame prima e poi Arvie, con Arvie che prova l'ultimo scatto per battere Avengers Endgame, con Avengers indietro, Avengers, la linea romana. Antonio Domenico Micheli per Agostina Fè, sempre più performante, Arvie è battuto, terzo Pueblo, 6, 2, 3, 8, un'idea di arrivo che potrebbe essere confermato dal giudice. La vittoria di Avengers Endgame, Antonio Domenico Micheli e Agostina Fè per la Blue Castle Stable, subito nel cuore della corsa e a segno in questo Goldoni, battuto Arvie, terzo Pueblo che è a corso da protagonista, quarto Time Leon a capeggiare i battuti, Sopran Pegaso, quello che ha tirato la volata a tutti. Ancora Agostino a segno in questa incursione le linee romane, in questo caso primo e terzo, meglio delle altre linee, è tutto.